Oggi facciamo i miei gnocchi con feta e pomodorini perché sono mamma mia! Per prima cosa, disponete i pomodorini e la feta in una teglia da forno. Ora, condite con sale, pepe, aglio, peperoncino, basilico e olio d'oliva e infornate per 30 minuti. Infine, frullate il tutto e mantecate con tantissimo parmigiano perché è super sexy!